La procura di Ragusa indaga sulla morte di un neonato avvenuta al Guzzardi di Vittoria nella giornata di giovedì scorso. Una donna di 28 anni, residente a Vittoria, era non a mese di gravidanza e tutto pare che fosse filato liscio. La donna era quasi in procinto della data del parto, quando avrebbe accusato dei dolori langinanti all'addome. Arrivata in ospedale, i medici avrebbero effettuato dei tracciati e pare che tutto fosse nella norma fino a quando non sarebbe riscontrata un'anomalia che avrebbe indotto i medici a portare subito la donna in sala operatoria per effettuare il parto cesareo. Dopo l'intervento, il neonato era già deceduto. Momenti di tensione tra medici e familiari si sono vissuti al nosocomio, tanto che si è reso necessario l'intervento della polizia che ha sequestrato la cartella clinica per accertare lo stato di salute del bimbo in grembo fino al momento dell'ingresso nella sala parto. Un'indagine interna è stata avviata anche dall'ASPE di Ragusa, il direttore generale Maurizio Ricò, ha inviato una nota agli interessati chiedendo dettagli sull'iter e sul caso clinico della paziente del neonato. Al momento non ci sarebbero indagati nell'inchiesta avviata come atto dovuto per l'ipotesi di reato prospettabile di omicidio colposo. La giovane mamma alla prima gravidanza si trova invece ricoverata tuttora a Guzzardi e potrebbe uscire tra domani e dopo domani.